La polemica in furia e il clima della campagna elettorale l'ha fortemente acuita. Un'inserzione di lavoro lanciata su Facebook da una pagina chiamata Sede di Forza Italia Taranto, Viale Virgilio 7, e presente in realtà dal 18 agosto, ha scatenato le polemiche. Nella richiesta si cercava una segretaria amministrativa per lavoro part-time in sede politica, requisiti bella presenza, bionda, conoscenza di office, automunita, residente a Taranto. Il post, dai contenuti evidentemente sessisti, ha scatenato la reazione indignata di tantissimi utenti, tra cui l'assessore comunale Francesca Vigiano. Anche dal Movimento 5 Stelle è partito un affondo durissimo, con richiesta di scuse da parte di partito e coalizione di centrodestra e di una presa di posizione forte da parte delle candidate del candidato presidente Raffaele Fitto. Immediata la reazione del commissario regionale di Forza Italia, l'onorevole Mauro Dattis, e del vice commissario, senatore Dario Damiani. Forza Italia non c'entra nulla con l'annuncio di lavoro sessista e di pessimo gusto che sta girando sui social, hanno scritto, sulla ricerca di una segretaria bionda e di bella presenza a Taranto. Il soggetto che ha pubblicato l'annuncio non ha alcun ruolo nel nostro partito e dunque non ha titolo per usare il nome di Forza Italia. Peraltro anche la sede di lavoro indicata non è una sede di Forza Italia. Verificheremo con i nostri legali la possibilità di agire legalmente anche per il danno di immagine eventualmente procurato. Sesso tenore nella nota di Francesca Franzoso e Pietro Lospinuso, coordinatori provinciale e vice coordinatore del partito a Taranto. L'autore del messaggio hanno precisato non è da alcun titolo autorizzato a parlare per nome e per conto del partito di Forza Italia. Nel ribadire la totale estraneità del partito alla diffusione di un simile farneticante messaggio, ne stigmatizziamo al contempo il contenuto, oltraggioso e turpe nei confronti delle donne e della dignità del lavoro. Nella frattempo, dalla pagina sede di Forza Italia, Taranto, Viale Virgilio VII, prima è stato rimosso il messaggio incriminato, poi ne è comparso uno in cui si attribuiva quanto avvenuto ad una manipolazione del profilo, oggettivamente strana per un messaggio che è rimasto online per dieci giorni. Dalla serata di ieri la pagina risulta cancellata e non più raggiungibile. Le polemiche invece continuano.